Il mea è sicuramente smacca il piano, devi dare la sorpresa, io fermo ancora 20 giorni. Come la vediamo? 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 No, come la vediamo! Come la vediamo? No, no! Cool! No, no! Where can we lose? Come la vediamo? Oh, we can't do that? Come la vediamo? No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 Bologna. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 Torino. 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 Torino! 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 Siamo a Torino.